Ecco a voi le nuove seghe circolari GKS55GCE, GKS65GCE e GKS85G Professional con il relativo sistema di binari di guida perfettamente armonizzato. Cercate una soluzione pratica per tagli lunghi e rettilinei. Grazie al nuovo sistema di binari di guida Bosch è possibile eseguire tagli rettilinei e precisi di qualsiasi lunghezza. Per collegare in modo rapido e semplice le guide è possibile utilizzare l'elemento di giunzione stabile di alta qualità FSN VEL Professional. L'elemento di giunzione ad orientamento automatico garantisce un lavoro preciso anche con più binari. Inoltre, grazie alla guida angolare FSN VAN Professional, anch'essa armonizzata al meglio nel sistema di binari di guida, ora è anche possibile allineare il binario di guida ad angolo sul pezzo con la massima precisione. Lasciatevi convincere dal nuovo sistema di binari di guida e dalle nuove seghe circolari Bosch, un sistema imbattibile, il metodo più rapido per eseguire tagli rettilinei.